La fumata nera non è arrivata e il giudice sportivo ieri sera ha deciso di non decidere ma passa la palla alla procura federale che entro 15 giorni dovrà fare una serie di accertamenti dopo gli incidenti di lunedì sera allo Zaccheria in occasione di Foggia a Vellino. La procura dovrà fare luce sui motivi che hanno indotto l'arbitro a sospendere il match specificando se tale decisione sia scaturita dal lancio di materiale pirotecnico e di altri oggetti fra i due settori dal lancio dello stesso materiale sul campo o da entrambi i fattori fino ai comportamenti delle rispettive tifoserie in ordine cronologico ovvero chi ha cominciato a provocare e chi ha poi reagito e infine se siano stati feriti poliziotti o steward. La procura dovrà verificare poi se il settore ospiti era o meno a norma. Dunque se da un lato si attendono le decisioni del giudice sportivo dall'altro continuano le indagini della questura di Foggia insieme a quella di Avellino. Sui social intanto circolano una serie di video, in alcuni casi anche su TikTok con tanto di musica nei quali si vede il lancio di torce di oggetti nei confronti dei tifosi avellinesi all'uscita dello stadio dopo mezzanotte ma anche episodi di reazione dei supporti rirpini. Proprio queste versioni così contrastanti hanno spinto dunque il giudice sportivo a prendere tempo e a chiedere ulteriori approfondimenti appunto alla procura federale. Di certo al momento sono salve sia la partita interna con il Giuliano che la trasferta di Picerno.